Via Pola resta senza illuminazione pubblica, scatta la protesta dei residenti per un disagio che va avanti da due sere e due notti e già sta recando i primi problemi agli automobilisti che transitano sulla zona. La prima sera l'illuminazione pubblica sarà completamente assente anche alle traverse di Via Pola, una fra tutte via Istria, con gli abitanti che hanno alzato la voce. Non è migliore la situazione se si scorre tutta l'arteria stradale, se arriva all'incrocio con la statale 17, teatro di numerosi incidenti anche gravi. Ieri la situazione è migliorata, ma dall'incrocio di Via Pola con Via Fiume e Via Cappuccini, al bivio sulla statale, i lampioni accesi si contano sulle dira di una mano. Uno scenario desolante che ha spinto i residenti della zona a richiamare l'attenzione degli enti preposti. Sono oramai due sere consecutive che si verifica lo stesso disagio, vogliamo capire se si tratta di un guasto o di un problema di alternanza con le vie e incalzano gli abitanti della zona che sollecitano il ripristino delle normali condizioni di viabilità e nel caso specifico della pubblica illuminazione, onde evitare problemi per la sicurezza stradale e la pubblica incolumità.